Per le combo Buon rider Vieni nel nostro Agli eventi poi Lì al Games Week Vai, concentrazione all'è Sì ci sono, lady, sono venerdì, sabato e domenica Ecco che si è bagato in nuova la scritta Ok Andiamo con l'acqua rafting potion Visto che ci abbiamo Esatto, queste sono le rune Come potete vedere ho messo i biscotti e il time warp tonic Più che altro per il sustain contro Riven La possiamo battere di sustain E poi ricordatevi che boh Avere un po' di mana in più, visto che ha 150 di mana in più A blitz fa comodo Con la sua passiva fa comodo Adesso non ci vieni, rider, non so che dirti La spacchiamo Max Remolai contro Riven W, lo so, è tanta roba Che cazzo vuoi? Vogliono invadere? Vabbè, vai, vediamo Eccoli Perfetto, ciao Ottimo engage Sì, sì Max Olè vado di Trinity, direi Malza col Safari Crystal E' un affanculo Ma Beh, ma cosa sta facendo? Eh! Ah! Ecco Onesto Round 2 Riven Eh? Mannaggia 4 HP Oh Dio Oh Dio Eh! Tan 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 Vabbè Oh No Il Triumph L'avrei killato Mannaggia Guarda quante schiccere che si è preso dai minion Quello Peccato Very close Very close Adesso ci abbiamo Lo shin Adesso sono piselli neri Perché proprio neri? Ah adesso vedi Comunque ho anche Baffato il range Della Q di Blitz Non pensavo Potessero fare una cosa del genere Ma l'hanno fatta L'hanno fatta Madonna i minion Li ho massacrato Li ho sottovalutati No Non sono così forte Ho aspettato l'ignite Riven è comunque Riven Col Conqueror My bad Una Riven QQQ TUN 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 Ce la fa Warwick? Ne dubito Vabbè Lo so aspetta il momento giusto Adesso però Eh sì però Max Rela è Quasi quasi Cioè è soltanto il cooldown che cambia W mi adrebbe anche attack speed però Secondo me contro Riven è meglio Cosa fa quello? Si Max Rela è contro Riven Bella Tom sa Ho fatto il gioco Ha beccato un Kha'Zix L'ha ucciso Ma Riven? Quanto ci mette a tornare? Oh eccola No il Kha'Ve Ok Ho di pizze Non fanno mai male le pizze Ottimo Ma è morta Warwick Oh ma che cazzo Ma era già morta Riven Perché mi ha traghettato? Vabbè Vabbè Vendicazione Vendicazione Le vendicazioni Report Kha'Zix Ecco Giusto Nel dubbio Nel dubbio Riven fa Kha'Zix Oh raga per me lì non doveva attaccare la torre Però ok Ok Voi pensate di sì Che io me lo sarei dovuto aspettare Se la neve viene sotto casa vostra Vaffanculo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio L'importante è che ne siate convinti Quante sub vai? 1536 Perchè Riven sparisce ogni tanto? Boh Vabbè E io frizzo Non stavo a 1600 Ma è Sono andato in vacanza Faccia lei Ma sono un botto Lo so che sono un botto Tutta bravura del pornatore questa 2966 In 8 minuti Eh oh Ah e poi io non è che ne abbia tanti di più Riven alta mid Ma perchè? Beh c'avrà il TP sicuro però 28esimo emote Arriverà dopo il games week Oh Bella per Warwick È stato comunque un guerriero Bravo ragazzo Mamma quanti soldi che ho fatto Sembra il cosplay della mia vita reale Eh eh Andando a do back Ma sì dai E via così Comunque 1700 per 2 fa 2005 Cosa è successo Jack In questo conto Vedo la scritta Itis sulla fronte As long as it takes Vabbè dai Non combatto in mezzo i minion che è tanto per Vieni 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 Ottimo Adesso mi tira la... Ecco proprio... Eh tieni Mica non mi ha fatto un minimo danno Pulizia contatti Eh... Pulizia contatti Buonasera Buonasera Salmon Riuscite a tirare su un canale Con tanta gente Lo seguo in questa maniera Il canale dei giochi Tutto Sì adesso L'hai semplificata molto Ok Vorrei smentire Oh Ma questo? Vabbè Se seguite me ragazzi So che avete un cervello E so che sapete che streammare Non è semplicemente giocare ai videogiochi Aspettate Tutto sto casino per venire a morire i Riven Ma c'avevi fretta Oh no Io me ne vado Guarda Ha flashato Oh Non è necessario quel flash Proprio volevo baitarlo Ce l'ho fatta Ah ok War with questo Vai VV Picchia Ottimo Riven gioca come fragola Comunque Oh ma ancora Oh Ha attaccato quello sbagliato Mamma Povera Riven Bella Carrie Buonanotte carissimo Comunque C'è preso la Riven Mica 4-2 Sta quel tizio Vabbè Comunque Dicevo So che voi che mi seguite Il cervello lo avete Sapete benissimo Che Lo streamer Non è semplicemente Non è un lavoro Trovate un lavoro vero Trovate un lavoro vero Non giocare ai videogiochi Mio padre che fa l'operaio Guadagna un quattordicesimo In quello guadagni te Bella manze E queste cose qua Perché effettivamente Non è così Perché esso sono diventati 1700 Oh Oh Eh bomb Mi ha fatto la range Mi dispiace Minchia Non me l'aspettavo Con il flash E che non essendo P Ho paura Che la mia ulti Faccia poco da Eccolo E' partito E' lui Vroom Ecco Oh ce l'ha fatta L'ho uccisa Davvero Ah Ah Dammi livello 11 Grazie Oh oh Ah 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 Oh 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 Non la prendi la pianta Non la prendi la pianta Oh Non ci credo Non è iron E' smurf Ha dodgiato Ragazzi Aia Addio L'insalata L'insalata No E' lui che ha preso L'insalata Piatelo Oh Allora Allora Oh Gesù Vroom Vabbè A posto A posto A posto Mamma mia Scopati Please report Reven Eccoli Queste sono le cose Che voglio vedere Report Reven Puoi agliare un pernello Lo farò This bot Ah Questa botlin Ho capito di che è la colpa E' della botlin ragazzi Ma era ovvio Era chiaro come il sole Comunque Ma infatti Toi mi ha fatto un complimento Io l'ho percepito Tranquilo Oh Signor Kha'Zix E' meglio se inizia a scappare Secondo me Ah Ah ce l'aveva ancora Ah No 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 Preso Ah Ste mosche Sono veramente fastidiose Mamma mia Nonna Prendimi la paletta Mi sono proprio rotto il cazzo Delle mosche io Sì Snafe Lascialo stare Poverino No Sì ma S'era solo al minuto 17 Ma che è Eric bullizza gli iron Comunque Confermo Troppo bullizzo gli iron Ragazzi Non c'è niente da fare Hai finito? Ah Non lo smonta nessuno Il blip Sta cazzo di invisibilità Peccato Se li avessi flashati in faccia Lo uccidevo Vabbè Vediamo un altro Cock of agility Sì ma Mi stanno violentando Ma non è possibile 08 lo loro bot Oh Meno male Ma chi Oh bravi Oh Uccideteli tutti Bravi Bravissimi Sì ma uccidete Malzar K18 K11 Dix 700 Eccola la ruspa Rara Kentank Benvenuto Kentank Benvenuto Nel club Delle ruspe Carissimo Ruspe in chat Ruspe in chat Ma guarda Malzar Come bravo Li pusha Con il suo lavoro onesto 62% L'attack speed L'ho più Porca puttana Bella steamer Tutto bene Grazie Il suo spellbook 023 Ma almeno Bobby E' toppingato Però Oh oh Oddio quanto è veloce Ma blitz Lo è di più Violented Vieni 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 qua Così impaga Mi fastidio Bad game Oh No 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 Vieni qua Vieni qua Ottimo Che vuoi? Che vuoi? Ah ok Capisco Che vuoi? Che vuoi? Ah Ah Gol Kulibali Event 2.13 Che vuoi? E stai lì eh Perfetto Ottimo Cos'hai pensi della patch? Ma tutto sommato sono d'accordo Ecco Creep nexus My promos My promos Andiamo a due È stato molto bravo Cosa? Interessante Lungo quanto il grab Ragazzi Lungo quanto il grab È più di una partita Onesto 22k Davvero? 22.000 22 3 Vieni qua invitation